Schede bianche 6, schede valide 53 e portano tutto un nome, Vitantonio Taddeo. Vanta una lunga esperienza sindacale nei quadri dirigenziali della CISL di Brindisi ed oggi approda ai vertici della Federazione Interregionale di Puglia e Basilicata, sezione pensionati della CISL. Vitantonio Taddeo andrà così a rappresentare oltre 150.000 iscritti in qualità di segretario generale di Puglia e Basilicata. L'elezione è avvenuta oggi nel corso dei lavori del Consiglio Generale presieduto dal segretario nazionale della FNP CISL, Loreno Coli. Il parlamentino dei pensionati pugliesi e lucani ha anche eletto Vincenzo Zuardi, segretario generale aggiunto, e completata la segreteria con Grazia Palumbo, Franca Russo e Pietro Stefanizzi. Quali sono le sfide del futuro per la FNP che lei oggi rappresenta? Noi le sfide su cui ci metteremo nel breve periodo che saremo in carica fino al Congresso sono la non autosufficienza innanzitutto, perché il governo è vero che ha stanziato dei fondi, ma sono insufficienti, la lotta alla povertà, il contrasto di interessi per quanto attiene il fisco. Sono seguiti vari interventi sui temi più attuali del difficile momento sociale ed economico che vivono i pensionati. A chiusura dei lavori, prima dell'approvazione del documento finale sulle problematiche che investono le fasce più deboli del Paese, ha parlato il segretario nazionale Loreno Coli. Mentre lo Stato e anche, devo dire, organizzazioni commerciali, l'Enel, la Telecom, ormai non hanno più uffici, tutto si deve svolgere online, ma non pensano che questo Paese, solo il 12% della popolazione, è in grado di compiere quell'operazione. Benvenga l'aiuto che diamo noi come sindacato a tutti coloro che hanno bisogno.